facciamo così domani vieni da me mi trucchi primo verso le cinque e poi usciamo con me che sono truccato va bene va benissimo perfetto seguite perché viola è una bomba cioè trucca da dio quindi non perdetevi il tutorial ti sei truccata da sola oggi ma guarda che questo non è niente c'è questo il suo look classico il rosetto ottimo vabbè il rossetto ogni tanto ci sta anch'io me lo metterai il rossetto domani voglio cucarmi col rossetto nero io nero o viola o no secondo me dovresti fare una sfumatura tipo rosso con nienta nero cosa ascoltate voi riporto si vuoi mettere il rossetto si si va bene sono curioso di vedere come si fa con il rossetto si lo voglio fare veramente dai perché non è stato un rossetto hai sempre la mascherina per nascondere esatto poi non posso pure nascondere questa come mi devo mettere mi fa paura questa cosa vai viola non non sbagliare vai ho un po paura vai 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 che sta paura Oddio, cosa è partito? Vai! No, non troppo! No! No! L'hai fatto so! No, perfetto! Vai, vai, ancora, ancora! Eh, non lo so, non sono mai messo il rossetto in vita mia, viola, capito? Eh... Ok... Risolto? No! Ah, tu continua a metterlo, finisci di metterlo così? No, devo toglierlo! Ok! Vabbè, verrà... Vabbè, sembrerà un po' un pagliaccio, che è quello che sono alla fine! Vabbè, tanto è carnevale, come si fa! Esatto! Vabbè, 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 un secondo! Nooo! Bella, molto bella! Ci rimarrà così, come le tatuagge di Sapo Bulli! Vabbè, va bene! Noi, vabbè, vabbè! Vedi qua che... È un po' sbavato? È sbavato perché... Hai... Ma che cazzo hai fatto perché sono così? Nooo! Nooo! Eh, ma... Date un chiamato per me! Nooo! Eh, lo sai! Eh, lo sai! Eh, solo c'è l'ha detto che di proprio non si sarà per il rossetto, ma va! Basta che metto la mascherina... E nessuno vede... Ma poi, più apertura mentale! Un ragazzo con il rossetto, che male c'è! Non c'è nessun tipo di... Di iscrizione, non c'è nessun tipo di discriminazione! Anzi, sono pure più bello di loro adesso con il rossetto! Tu l'hai detto che ero un figo con il rossetto! C'è esattamente ragione, guarda! Mi sa che inizio ad usare il rossetto giornalmente! Fai un po' la bocca papera? Ma cazzo! Dai, ti sta bene! Ti sta bene, ti sta bene! Lele! 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 Lele è proprio brutto, comunque! No, è vero! Lele è proprio brutto! Vorresti anche tu avere una relazione insieme? No! No, assolutamente! Vaffanculo, relazioni! Vaffanculo! Devo ammettere che siete una bella coppia U Il bacio goliardico non sarebbe male per far felice Twitch Italia! No! Per far felice Twitch Italia! 49, 59, 69! Piccolo bacio goliardico per far felici gli altri! Niente... Non abbiamo secondi fini! Sicuramente! Cringe! Veramente! È un po' cringe, è vero! No! Oddio! Sei brividi dal cringe in questo momento! Viola, non cringearti troppo! Sì, non baciavo una tipa dall'elementario, ragazzi! Ah, guarda cosa è scritto! Non baciavi la tipa dall'elementario! Eh, esatto! Quella scritta! Vabbè, dai ragazzi, l'elementario ha vuoto le mie donne! Come to the top, let's go! 1, 2...